Il giorno e la storia Oggi è il 16 luglio 1647 Muore Masaniello 1945 Alamo Gordo Primo test nucleare 1969 L'Apollo 11 parte da Cape Kennedy Commenta il fatto del giorno Antonio Di Rosa Direttore della Nuova Sardegna Una volta passare in Francia Era molto difficile Con il traforo del Monte Bianco Tutto diventò semplice